prima giornata di winter cup si sfidano dinamo sciaccani contro cv cumana calcio d'angolo per la dinamo ancora il colpo di testa sempre morgesi secondo tiro in porta della parisci tocco verso vasaturo viene incontro l'andolfo alla fine riparto la dinamo con de marco il tocco verso gargiulo col destro dinamo sciaccani in vantaggio l'assist di ennio de marco il gol di gargiulo vasanino col destro verso la porta tiro molto violento palla di poco alta nuovo per zarlini il lancio lungo c'è vasaturo che si libera ancora vasaturo col destro pallone al lato che giocata qui del numero 9 dalla bandierina sciarretta ancora dinamo sciaccani in avanti arriva anche san nino dalla difesa il cross per de marco splendida la girata del centrocampista non ha trovato però le finte di marigliano ancora zona centrale marigliano all'arbia verso capece prova ad accentrarsi calcio col sinistro capece e trova un gol straordinario numero 10 pareggia i conti civico mano a 1 dinamo sciaccani gargiulo va alla conclusione gallo la paracolpetto sul filo di gargiulo termina il primo tempo dinamo sciaccani 1 civico mano a 1 tomeo tocco verso gargiulo san nino zona tiro calcio col destro latinelli gallo e la dinamo sciaccani trova il gol del 2 a 1 con sciarretta che ha sfruttato la ribattuta sul tiro di san nino cerca e trova calace la finta del numero 10 ancora calace sterza quella la giocata poi serve liguori zona tiro calcio liguori pallone alto ad un soffio il destro di antonio liguori morgese sul secondo palo è solo morgese prova a far filtrare il pallone ancora morgese lotta al limite dell'aria serve rispoli in area di rigore il tiro dinamo sciaccani 3 cumana 1 il gol di rispoli demarco solo sulla fascia destra demarco punto al numero 10 ancora demarco sterza in area di rigore calcio col sinistro la risposta di gallo che la mette in rimessa laterale tocco verso sciarretta le finte di sciarretta cambia tutto sciarretta è solo gargiulo in area di rigore gargiulo calcio che parata di gallo ma ancora occasione sprecata da gargiulo capisce prova a passare capisce l'arbitro dice che basta così dinamo sciaccani 3 cv cumana 1 linea trovati dal millennium si è appena conclusa dinamo sciaccani contro cv cumana risultato di 3 a 1 siamo qui con tomeo e gargiulo della dinamo allora partiamo da gargiulo autore del primo gol la partita era abbastanza controllata gli avversari erano anche in sette poi nel secondo tempo però siete calati un po' avete sprecato anche tante occasioni alla fine però l'avete comunque portata a casa meritatamente sì è stata una partita strana molto strana gli avversari erano sette il secondo tempo e quindi diciamo la grinta è un po' calata perché la tensione della partita era veramente minima e quindi non veniamo l'ora di aspettare la prossima partita per per giocarci passiamo a tomeo leader difensivo quante urla dato l'andolfo a tutta la squadra quest'oggi tante tante vabbè come sempre non riconosciamo però è quello che caratterizza la sua figura e il suo essere giocatore in campo sicuramente ci ha dato una mano con le sue indicazioni nella sua competenza calcistica ma spero di che proseguiremo questo torneo nel migliore dei bene ringraziamo gargiulo e tomeo dal millennium per ora